L'argomento della privacy ultimamente sta entrando un po' a gamba tesa nella vita di tutti noi, siamo anche bombardati spesso da messaggi, quindi necessità di fare chiarezza su questo aspetto? Sì, assolutamente sì, la nostra struttura, il nostro gruppo si è ottimizzato ultimamente proprio per cercare di dare un servizio olistico a tutta la clientela con tante attività interprofessionali. Tra le varie attività c'è anche la procedura della privacy che è il nuovo regolamento che è entrato in attuazione il 25 maggio. Chiaramente questa è una cosa che ha sconvolto il mondo dell'informazione, dei flussi dell'informazione proprio a riguardo del fatto che siamo finalmente ritornati in possesso dei nostri dati. Mentre prima era necessario avere un consenso per il trattamento dei dati, oggi invece tutte le aziende, bisogna fare molta attenzione per questo, devono assolutamente mappare il flusso delle comunicazioni perché i datori di lavoro e comunque gli imprenditori sono responsabili e oggi i controlli li fa la Guardia di Finanza, sono responsabili del trattamento dei dati. Assolutamente poi è diventata ancora più forte perché abbiamo la parte offesa o comunque la parte interessata che può presentare denuncia al garante, quindi gratuitamente, quindi sotto questo profilo si innescano meccanismi di denuncia dove il garante entro un determinato tempo stabilito dalla norma deve per forza andare a valutare quelle che sono state le violazioni al flusso dei dati o comunque ai dati trattati e sappiamo cosa poi ultimamente stiamo parlando con Facebook e con tutto quello che è venuto fuori, quindi oggi c'è veramente una mercanzia di dati incredibili. Grazie.